Ancora un incontro a Catanzaro sulle ragioni del sì e le ragioni del no in vista del referendum costituzionale di dicembre. Ad organizzarlo è stata l'associazione La Calabria Cherema, presieduta da Daniele Rossi, che ha voluto offrire ai cittadini un momento di confronto sulla riforma che potrebbe implicare modifiche importanti all'assetto delle istituzioni. Una bella iniziativa, tanta gente qua presente nella sede della Calabria Cherema, è un'associazione che chiaramente non darà un'indicazione di voto sul referendum, ma ha voluto oggi stimolare comunque il dibattito, stimolare il confronto con due avvocati che hanno dato le loro indicazioni e le loro ragioni. A spiegare le ragioni del sì e del no sono stati gli avvocati Francesco Granato, già sindaco di Catanzaro e vicepresidente di Federproprietà, e Giuseppe Napoleone del movimento Noi Consalvini. Votare sì perché non vi è alcuna proposta diversa e alternativa. La prima iniziativa che abbia avuto una forza, una consapevolezza e un seguito da quando si parla di revisione costituzionale è l'ultima iniziativa possibile. Dopo di questa probabilmente sarà difficile che ci sia un'iniziativa così forte, così determinata come quella che è stata messa in questo momento in piedi da questo governo. Secondo voi che sostenete le ragioni del no, non sempre il cambiamento è sinonimo di miglioramento? No, assolutamente, specie quando si fanno dei cambiamenti che devono essere, a mio avviso, largamente condivisi. Certi cambiamenti, specie questo della Carta Costituzionale che regola la vita di tutti i giorni della nostra comunità, deve essere largamente condivisa e a parte gli aspetti tecnici è stata quasi una riforma imposta. Rossella Galati per la CNews24 Rossella Galati per la CNews24